ciao ragazzi benvenuti a un nuovo video questo è l'unboxing del galaxy s4 abbiamo le seguenti caratteristiche per questo telefono abbiamo che wifi bluetooth dvx android jelly bean un super amoled full hd da 5 pollici connessione lte o altre alla hs dpa quindi 100 megabit per secondo in download e in upload rispettivamente uno snapdragon come un processore quad con 1.9 ghz uno schermo come ho detto già fu la d 5 pollici full hd una riproduzione e una registrazione di video anch'essi in full hd 13 megapixel la fotocamera con flash led autofocus 2 megapixel quella frontale gps più glonass la porta infrarossi molto interessante per comandare il televisore e la batteria da 200 da 2600 mAh molto performante sembrerebbe poi lo andremo a vedere andiamo a vedere la confezione abbiamo il telefono lo accendiamo i sensori di prossimità i sensori di luminosità fotocamera frontale altri sensori per tutte le cose samsung il tasto centrale il led di notifica più tasto soft touch opzioni e indietro sul lato sinistro abbiamo il bilancio del volume su qui da questo lato sul lato destro abbiamo l'accensione spendimento dietro fotocamera e flash led 13 megapixel lo speaker sopra abbiamo lo jack 3 e mezzo porta infrarossi e secondo microfono per pressione dei flusci e sotto abbiamo il connettore micro usb usb dati benissimo abbiamo quindi in questo caso il telefono si è acceso eccolo qui e quindi poi lo andremo a testare al meglio e quindi mi riservo un po di tempo per testarlo poi abbiamo nella confezione guida rapida samsung luca exclusive tutta questa roba qui in sostanza e abbiamo il caricatore compatto della da viaggio il cavo dati usb micro usb e la appunto la gli auricolari in ear di ottima fattura più anche i gommini anche i gommini per sostituirli bene la confezione è questa il telefono l'abbiamo visto bellissima questa texture diciamo sul nero sul bianco forse si vede un pochino di meno benissimo questo è tutto mi riservo ripeto qualche giorno per fare eventuali test se avete qualcosa da chiedere riguardo qualche test riguardo qualsiasi cosa che possa riguardare la videoprova finale mi raccomando di andare sul nostro sito provacellulari.it a lasciarmi un commento nel relativo articolo riguardo l'unboxing del samsung galaxy s4 grazie a tutti grazie a tutti